Cari teste fiorite, buongiorno, buon venerdì, bentornati alla rubrica video che oggi è dedicata a quattro riviste specializzate nella letteratura per l'infanzia e l'adolescenza. Ho scelto le quattro che credo siano più diffuse, sono tutte quattro interessantissime e che hanno delle caratteristiche specifiche, per cui uno si può orientare di più su una scelta o su un'altra o su tutte e quattro meglio, così si ha un panorama più stereofonico, mi viene da dire. Ma partiamo, le facciamo in ordine, guardate, avevo pensato di fare un ordine alfabetico, in realtà faremo un ordine cronologico, partiamo dalla più vecchia e arriviamo alla più nuova. Sicuramente le conoscete già tutte e quattro, ma ci tengo a farvele vedere perché credo siano degli strumenti importanti per poter restare aggiornati, ma più che per restare aggiornati per poter approfondire alcuni aspetti di questa straordinaria produzione letteraria rivolta ai bambini e alle bambine, ragazzi e alle ragazze. E cominciamo dalla rivista Andersen perché lei è stata la prima fondata nel 1982 ed è una rivista mensile. Ho preso, lo dico tra parentesi, dei numeri a caso, non sono gli ultimi numeri di ciascuna rivista. Andersen esce ogni mese, se dovessi dire qual è la sua caratteristica, forse direi l'attenzione all'illustrazione. Non solo la copertina di Andersen è caratterizzata ogni mese da un illustratore diverso che ha l'unica richiesta, diciamo quella di far apparire il ciuffo di Andersen che rientra anche nel logo, e infatti in questo caso lo trovate qua, ma insomma credo che il punto, diciamo l'occhio, l'attenzione alla parte diciamo iconografica dell'illustrazione forse è la caratteristica che rende particolare questa rivista. Dopodiché ci sono sempre degli approfondimenti molto molto interessanti e alla fine ci sono anche le schede di presentazione, direi, delle novità. Ecco, Andersen è anche la rivista a cui fa capo l'omonimo premio italiano Andersen che è il nostro premio italiano Andersen. C'è poi quello internazionale che viene considerato il premio Nobel per la letteratura per l'infanzia ed è l'Andersen Award che però non è italiano, invece il nostro è appunto l'Andersen legato alla rivista. Andiamo alla numero due che è Liber. Liber arriva nel 1988, è un trimestrale ed eccolo qua, anche in questo caso naturalmente non si tratta dell'ultimo. La caratteristica di Liber secondo me è quella di essere un po' più eclettica, cioè non ha questa attenzione particolare sull'illustrazione, ma ha diversi spunti a volte di tipo pedagogico, altre volte più basati sulla scuola, su riflessioni anche letterarie. Insomma, secondo me è un pochino più eclettica, forse un pochino più rivolta a dare un panorama ampio diciamo di ciò che ruota attorno ai libri per bambini e bambine e ragazzi e ragazze. Infatti il suo sottotitolo è proprio questo, libri per bambini e ragazzi. Interessante è la caratteristica che Liber dà sistematicamente le schede delle novità, per cui se volete restare aggiornati ci sono queste schede in cui trovate tutte le novità edite con queste stelline che vi danno diciamo un sommarissimo giudizio valutativo. Sia Liber che Andersen poi offrono una serie di contenuti speciali di approfondimento. Andersen per esempio, oltre ad avere l'annuario che vi permette di trovare autori, editori e tutto il resto, anche fare vari approfondimenti, vi dà anche il numero monografico che di solito scede estate, che quest'anno è dedicato a Calvino e naturalmente ce n'è stato uno dedicato a Mario Lodi e via dicendo. Quindi, mentre Liber vi dà non solo le schede, ma poi dà sul Liberweb anche un database di approfondimenti davvero molto molto interessante, che però se non ricordo male richiede un abbonamento ulteriore. Proseguiamo con una rivista molto particolare che a me piace moltissimo, nasce nel 96, se non ho visto male perché l'associazione nasce nel 96, credo che sia contemporanea alla nascita anche della rivista, anche se, ripeto, non sono sicurissima, quindi prendete la data con beneficio di inventario. Sto parlando della rivista di Amelie che esce tre volte all'anno, mi pare, quindi dovrebbe essere un quadrimestrale e ha la caratteristica di essere una monografia. Questa è una rivista monografica in cui si sceglie un tema, questo ancora una volta non è l'ultimo, ma è forse il mio preferito, quello dedicato agli adolescenti, la sottile linea scura, il numero appunto 38. È un numero, come tutti gli altri, monografico. Alla fine di ciascun numero, comunque, anche in questo caso trovate delle schede che vi presentano alcuni libri, per lo più novità. Chiudo con una rivista che forse è quella che meno si vede in giro, ma ugualmente interessante, è Pepe Verde. Eccola qua, Pepe Verde ha come sottotitolo letture e letterature giovanili. Interessante, letture e letterature, questo mi interessa molto. Giovanili usa un aggettivo particolare. Questa è una rivista che nasce nel 2019, è una rivista legata per lo più al mondo della scuola. Il direttore editoriale Armanno Detti, per cui ha un'impostazione molto interessante, tutta centrata sulla lettura. Diciamo che qui forse lo stampo più legato alla scuola e in qualche modo anche ad alcuni aspetti pedagogici, forse è più forte rispetto alle caratterizzazioni delle altre tre riviste che abbiamo visto finora. Anche in questo caso, alla fine, ci sono delle schede di presentazione delle novità. Ecco, queste sono le quattro riviste che ci tenevo a farvi presente. Lo so che probabilmente le conoscete già, ma credo che gli approfondimenti in rivista siano estremamente interessanti. Ripeto, più per gli approfondimenti e gli editoriali, ma anche i singoli articoli che ci sono in ogni numero di questi, che per l'aggiornamento. Insomma, se uno vuole restare aggiornato, c'è tanti modi per restare aggiornato, anche quotidianamente, anche online, per esempio. Ma il valore di queste riviste è proprio per i veri e propri contenuti che ci sono dentro, quindi gli approfondimenti che secondo me sono veramente interessanti per avere anche uno sguardo su cosa si sta muovendo e come si sta muovendo il mondo dell'editoria per l'infanzia e l'adolescenza in Italia. Voi quali conosciete di queste riviste? Quale vi piace di più di queste riviste? Ditemi se vi piace riceverle in abbonamento, se invece andate a guardarle qua e là ci sono anche molte biblioteche che hanno l'abbonamento alle riviste e quindi si possono prendere anche in biblioteca. Insomma, ditemi che rapporto avete con queste riviste. Io qui vi lascio, ci leggiamo tutti i giorni su testeferite.it, ci vediamo tutti i giorni sui canali social. Naturalmente vi aspetto ad approfondire tanti aspetti della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza sul portale di Teste Fiorite Lab. Ciao!